ok sta registrando ok c'è delle comande no 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 manuale manuale guarda bene ok gioca partito ok ok mettiamo start c'è sta mica di ombra anche lui porca puttana non è posto ci siamo non ci viene dai proviamo proviamo abbiamo vantaggio in questa partita non l'avamo prima madonna resta con noi resta con noi la mette in mezzo risolve una situazione complessa ecco a zar ottima lettura difensiva cazzo race james si o boh la race è uno degli osservati speciali oggi della difesa avversaria occhio a rodai di troppo spazio giocatore tecnico rapido nello stretto sa saltare l'uomo nell'uno contro uno con una facilità disarmante la stagione d'oro del titolo con leister ha dimostrato anche una notevole confidenza con il gol riguardo azzardi invece è un giocatore che sa esprimersi come pochi negli ultimi metri l'area di rigore è casa sua per i difensori è una specie di incubo che cazzo bravo race tienila race tienila tienila no si fa spazio recupera palla far ripartire i suoi no dai come cazzo no cosa ho sbagliato una cazzo ho sbagliato zi ok versalico casemiro a voi ori c'è uscita ci sarà la tuscia chimenez riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio pauligno palla recuperata dagli avversari sale walker ha sbagliato completamente il cross il pallone che è terminato sul fondo Allen raffa muovono il pallone senza fretta aspettare il momento giusto palla vagante adesso anche devo ancora entrare in partita fred oh ho fatto il gioco è accaduto che è accaduto ancora che cazzo devo andare in porta fauligno fauligno che cazzo 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 cosa ha preso si o porco cosa cazzo ha preso il tocco per mares palla persa dal nord ma come cazzo fai a vedermi da lì stiamo giocando con uno che è peggio di fila 20 minuti non ha fatto un ucci eh 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 recupera un pallone pericoloso qui regole minchia brutta bravo leis bravo nooo mi sono scherzato siamo secondi o dodicesimi? sì che ho lo schermo non entra tutto regalano palla agli avversari ciao Sampdoria che prova a farsi minacciosa niente da fare che il portiere controlla la grafica eccola sul possesso palla percentuali molto vicine entrambe le squadre faticano imporsi probabilmente hanno paura di scoprirsi troppo così però è difficile che il risultato si sblocchi sampdoria che cazzo vabbè fatemi arrivare almeno però guarda che cazzo versalico si abbassa a caccia di un pallone giocabile errore nella circolazione del Dortmund buona qui la verticalizzazione palla girata sulla fascia palla che rotola via dopo un buon intervento Fred bene qui il difensore ha chiuso la linea di passaggio ha riconquistato palla occhio a Rasar che avanza Sampdoria che attacca ottima lettura difensiva mares tutto fermo tutto fermo c'è fuori gioco niente sto tornando ucciso c'è il fallo e dunque punizione l'arbitro qui non se ne è sentita di estrarre il giallo e questa è l'ultima e quanto si è capito dal suo labiale interrompe bene l'azione intercettando il lancio eh no eh madonna fa un po' fuori il tuo gol ci vuole carini secondo tempo dai l'arbitro dice che può bastare zero zero alla fine tre tiri io lui zero mi fa un tiro favore ok dai speriamo che questo secondo tempo Stefano ci possa regalare un po' di emozioni quelle che sono mancate fin qui eh ve lo auguro anch'io pier finora la partita è stata bloccata tra delle squadre un concetto può portarsi in vantaggio goooool mazarle ha fatto la cagata ha fatto ha fatto ha fatto a lui la cagata però è arrivato il primo gol dell'incontro 1 a 0 ma questo è proprio scasso cioè dall'inizio ha fatto una uccisione ti rendi conto? puntuale qui il difensore del recupero ah beh però che cazzo ci fa dare deve giocare a pacman Fred palla persa dal doorboard eh calibra male il passaggio regalo dunque la tuscia meglio il buon Russia di Dortmund nella gestione del pallone formazione giallo nera che ha tenuto di più la palla provano a stranare gli avversari alla ricerca degli spazi per andare alla conclusione devono velocizzare la manovra troppo lenta troppo prevedibile difficile che possano sperare di recuperare lo svantaggio quando vanno a giocare così per lenta un'altro bravo scurina oh Eh, dame, sta palla. Sì, ho cane. Ah, no, 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 porta vuota là dentro l'aria, piccola presa la tavola, il palo. Non ci credo, non ci credo, cazzo, non ci credo Benzema, zio, buono. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Come va, anche lui porta vuota a sbagliare. Ma ora mi ci vuole almeno una sigaretta, questa p***a di merda. Deve arretrare per ricevere il pallone. Porca miseria, che schifo. Cazzo! Ragazzi, se non vengo questa partita qua e non la vengo, è proprio... Quanto state? 1-0 per me, ma... Ho sbagliato 4 gol davanti al portiere, incredibile. Ma, ma... Due a porta vuota, eh. Ti chiamavano sentenza a motivo di uscire. Due a porta vuota. Di mossa con le mani. La mette in mezzo, ma non c'è nessuno. La spazza via! Casemiro Fred Sto cazzo di Walker è imprendibile Ma chi è? Incredibile Anche lui ha sbagliato un gol assurdo adesso Incredibile Ah fuori Sanè No no mi sto alzando davanti a guardare Dentro Bustos Anche a posto di Ray James Che adesso iniziamo a soffrire No si brava No no Un vergicero lo sta contenendo bene Eh però due se le mangiate anche lui eh Io uno clamoroso Da sarà stato a tre metri da porta Senza portiera al volo Incrocio dei pali Tirato malissimo Un pallone che finisce sul posto Benzema Trambi gli allenatori Mabberi in campo Forze fresche Dato sulle conclusioni Che spiega Infatti gli ultimi di questo risultato eh Non ho creato poche occasioni da golla Il potere avversario Non ha corso particolari pericoli Devono sicuramente aumentare il ritmo E migliorare il rendimento In fase realizzativa Hazard Buono il tackle Che stai sgranocchiando Che mi stai facendo venire fuori Marens Palla per Kai Walker Eccolo qua è partito a walk Trazione nel mezzo Brava La linea Mettendosi sulla traiettoria giusta Che cazzo Tienila 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 Bravo Vieni a farlo Vai Raffae Come al solito Non me lo salvo Dami Benzema Ma Mancano dieci minuti alla fine della gara Uuuu Comodo Intervento di Rui Patrici E' buono l'81esimo sei buono Chimenez Puttana Taro E' stai zitto Si è vinto Prova a attaccare il Borussia Nel recupero A cazzo del pareggio Guarda il Moivin in area Si 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 Non so perchè sta ancora giocando Lascia il joystick Lascia il joystick Tanto ormai Benzema Perde palla E la regala agli avversari Palla persa dal Dortmund Mancano 5 minuti alla fine della partita E allora Il Dortmund sta attaccando le terrenome Di raggiungere il gol del pari Eh Deve sapere di venire quello alto se riusciamo Anche se qui si muore sicuro Karim Benzema Si si Buono il cross per Benzema Vabbè però Oh Assurdo eh Tetta l'imbucata qui per il compagno Mica hai cambiato di tue Ha fatto zio cane Bravo Bustos Bravo Bustos Grande post Ben Gran palla E' finito da 30 secondi eh E' finita da 30 secondi il giocano eh Finita 1 a 0 dai 1 a 0 1 a 0 No 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 1 a 0 Va bene così Allora Arriva arriva Beh 8 tiri a 3 4 in porta io 1 a 2 Ecco Ed è hazard Adesso si lamenterà Dove è patrice in un alien camp sicuro Asi